Nemmeno il tempo di entrare in clima con i motori visto l'imminente inizio della Superbike che pronti via ci catapultiamo già verso settimana prossima perché parte il 5 di marzo il nuovo campionato mondiale di Formula 1 e di conseguenza proprio come ho fatto con la Superbike settimana scorsa andiamo a parlare della Formula 1 con il calendario, piloti e categorie di contorno. Partiamo ovviamente dalle 23 gare di questo campionato, del calendario più folto, più ricco di sempre di questa Formula 1 per un campionato che partirà il 5 di marzo al circuito del Bahrain, oramai circuito classico dell'apertura della campionata mondiale. Si concluderà il tutto al 23 gran premio al circuito cittadino di Yasmarina Abu Dhabi il 26 novembre. In origine i gran premio dovranno essere 24 ma la Cina sappiamo che ancora le politiche covid free di conseguenza per evitare contagi esterni è stato ancora una volta annullato il gran premio di Cina. Questo però cosa ha comportato? Un buco gigantesco nel calendario perché per la prima volta nella storia della Formula 1 ci saranno due pause di un mese da quando il calendario è stato ampliato. Tant'è vero che ci sarà appunto un buco dal 2 al 30 aprile dal gran premio di Melbourne al gran premio di Banco. È un calendario che logisticamente ha leggermente più senso rispetto a quello scorso perché evidentemente si condensano in grandi macro aree, diciamo, le varie gare a partire dalle extra europee. Le prime 5 della stagione di fatto le centrali sono quelle europee tranne il Canada e poi da Monza in poi si va di fatto nel sud-est asiatico, nel Medio Oriente, negli Stati Uniti per tornare poi veramente negli Emirati Arabi. I due appuntamenti italiani che sono quelli dell'anno scorso in circuito di Imola, questa volta messo al 21 maggio e non nel ponte del 25 aprile come l'anno scorso dove peraltro ero dal vivo a vedere la vittoria di Max Verstappen davanti a Sergio Perez e al mio Lando Norris che ha fatto l'unico polio della stagione. Trovate sempre il video in altra destra delle schede con il vlog relativo con il buon Jake TV. Per quanto riguarda invece l'altro appuntamento italiano è Monza, oramai una classica, questa volta il 3 di settembre per un calendario che in realtà anticipa i tempi perché sapevamo come spesso la pausa estiva fosse il circuito, diciamo, dell'Ungheria per poi andare a riposo. Per tornare con Spa a inizio agosto, qui invece è una cosa un po' particolare perché sarà Spa-Francorchamps a fare da pausa, diciamo, al Mondiale di Formula 1 per quanto riguarda l'estate. Il 30 luglio si correrà il GP del Belgio per poi riprendere il 27 di agosto al GP di Olanda, il circuito di Zandvoort. C'è una novità sostanziale rispetto appunto all'anno scorso, c'è un gran premio in più, però alla fine abbiamo un calendario molto folto con le novità del Qatar che in realtà non è una novità assoluta perché il circuito di Los Ailes ha, diciamo, già ospitato un gran premio nella stagione, diciamo, di pandemia. Parliamo del 2021 quando appunto fece una comparsata come gran premio sostitutivo. La novità più importante è quella tamarrata del circuito di Las Vegas che di fatto è un Red Bull Ring sotto acidi come layout, è un circuito che francamente a me non piace, è l'ennesimo cittadino messo lì per riempire e per far soldi evidentemente al circuito di Formula 1, non che sia sta gran novità. Ma diciamo che l'ennesimo cittadino a scapito di circuiti storici, francamente, a me non è che faccia impazzire. Peraltro la grande generata del GP di Las Vegas è che si correrà alle 7 di mattina, orario italiano, di domenica 18 novembre, quando in realtà in appunto Las Vegas saranno appunto le 22 del sabato sera. No, quindi visto che comunque Las Vegas è terra di svago, giustamente ci abbiamo messo anche un gran premio. Peraltro il GP di Las Vegas non è neanche questo a caso, una novità assoluta, perché venne corso negli anni 80 due edizioni, se non sbaglio, una più cittadina di quell'altra. Speriamo che questo circuito faccia questa fine, piuttosto, visto che Liberty Media è americana e che le proprietà appunto investono nei circuiti statunitensi, anziché mettere Miami e Las Vegas, magari mettere qualche circuito che è già presente negli Stati Uniti, per esempio Indianapolis o Road America su tutti, che sono circuiti parecchio parecchio belli. Ma al di là di questa piccola rent, in questo buco di calendario, avremo un campionato di 23 gran premi per vedere una cosa in particolare. Se Max Verstappen riuscirà a vincere il trattito del mondo consecutivo, o se evidentemente qualche outsider, in particolare Terraria o Mercedes, riusciranno a inserirsi in una griglia di partenza che, un po' come lo Superbike nell'ultimo Raceway Podcast, di fatto ha cambiato qualcosina nell'intermezzo, ma non nei team di punta. A partire infatti da Red Bull, abbiamo la conferma di Max Verstappen, non potrebbe che essere altrimenti. Verstappen viene da una stagione assolutamente dominata lo scorso anno, un dominio incredibile di tutte. In realtà la Red Bull, che, apro parentesi, da quest'anno torna a essere ufficialmente motorizzata Honda, mentre l'anno scorso era motorizzata Red Bull Powertrains, di fatto era sempre Honda, ma con un marchio diverso. Qui invece la casa giappone ci mette veramente del suo, dal punto di vista ufficiale, è un po' come appunto la prima stagione che Verstappen vinse. Verstappen appunto viene da una stagione dominata, che manco il grande Hamilton, quando aveva la Mercedes turbo dominante contro chiunque e contro tutti. È una stagione, evidentemente, dove la Red Bull è ovvio che parta come favorita, perché la base è veramente tanto solida. È ovvio che, mentre sono registrati i test, non sono ancora stati effettuati, quindi è tutto da pesare. Certo che, se la base è quella dell'anno scorso, allora, attenzione, Verstappen parte per fare il three-peat. A tutte le carte per farlo, la cosa importante sarà vedere cosa faranno Ferrari e Mercedes con la scuderia tedesca leggermente avanti rispetto, magari, a quelle che sono le basi dell'anno scorso e Ferrari è ancora tutta da valutare. Una Red Bull che, comunque, conferma anche Sergio Perez, e non potrebbe che essere altrimenti, perché al net degli screzi che hanno avuto Verstappen e Perez in Brasile il messicano è, senza dubbio, la miglior seconda guida esistente sulla faccia del pianeta Formula 1, che se ne dicano degli altri, perché è un pilota che fa ogni tanto delle pole, vince delle gare, porta podi e porta punti solidi a questa Red Bull che, ovviamente, punta a fare piloti e costruttori anche quest'anno. Chi punta, invece, al riscatto è sicuramente Mercedes e sicuramente Ferrari. E parliamo della casa di Maranello che ha presentato, mentre sto registrando da poco, la Ferrari SF-23, anziché la SF-75, confermate ovviamente le Clerc & Sainz con ambizioni parecchio diverse. Sarà importante per la Ferrari dare subito delle guide e delle vie dal punto di vista dirigenziale, perché sappiamo che andò via Mattia Binotto, è arrivato Vasseur dall'Alfa Romeo e va stabilito un tipo di gerarchia, va stabilito chi è il primo e chi è il secondo pilota. È ovvio che, dal mio punto di vista, le Clerc dovrebbe essere il primo pilota, perché comunque è il pilota più giovane dei due, è il pilota di talento maggiore rispetto a Carlos Sainz ed è il pilota su cui si può, secondo me, puntare molto per il titolo del mondo, anche perché, dall'altra parte, abbiamo Russell, abbiamo Verstappen, se Norris ha una macchina decente, anche Norris, insomma, le Clerc deve assolutamente riscattarsi. Per demeriti suoi, in parte, l'anno scorso, il Mondiale evidentemente ha dato appannaggio di Verstappen, almeno in parte, in parte per demeriti del Muretto Ferrari, che ne ha combinati più di Carlo in Francia, evidentemente Leclerc con questa guida tecnica, che peraltro conosce, cioè Vasseur deve assolutamente riscattarsi, e io punto tanto sul riscatto di Leclerc questa stagione, è sempre ovviamente che il mezzo sia competitivo, a differenza di quello che è stato l'anno scorso, che lui è stato per brevi tratti, e poi ovviamente si è spenta la luce. Confermato, ovviamente, Carlo Sainz, che comunque ha ottenuto l'anno scorso la sua prima vittoria in quel di Silverstone, al termine di quella gara tanto contestata, quella stagione sbagliata tra Leclerc, e appunto il pilota spagnolo, ma comunque Sainz ha dimostrato di essere comunque un pilota importante su cui puntare, secondo me Sainz dovrebbe fare il ruolo che fa Perez in Red Bull, cioè portare dei punti pesanti, intesi come Podi, quando può farlo, cercare di portare punti alla Ferrari in sé, ovvio che se dopo cinque gare dovesse succedere che la Ferrari si lotta il titolo del mondo con Sainz, la Ferrari dovrebbe avere la possibilità di mandare avanti Sainz e non Leclerc. Ovviamente sto parlando tutto sulla carta, poi dopo si parlerà in pista, e lo scopriremo comunque già da partire dal Gran Premio del Bahrain, circuito comunque già importante per caratteristiche e per tecnica. Parlavamo di riscatto Ferrari, dobbiamo parlare però anche di riscatto Mercedes, sappiamo come l'anno scorso la scuderia tedesca abbia faticato tantissimo nella prima parte della stagione, ma evidentemente ha lavorato tanto sui problemi, tanto è vero che il culmine è stata la vittoria in Brasile di Russell con la doppietta, perché Hamilton è arrivato in seconda posizione. Lewis Hamilton, che comunque ha 38 anni, partirà per evidentemente riscrivere ancora le statistiche, non so quanta forza abbia ancora di vincere l'ottavo titolo del mondo, perché comunque abbiamo detto, Verstappen, Russell, Leclerc, Norris sono avversari di livello, anche in confronto a questo Lewis Hamilton, che comunque è anziano, ma comunque il talento secondo me non si perde mai. Certo, Hamilton ha perso l'anno scorso il record di aver vinto un Gran Premio ogni anno da quando in Formula 1, ma sinceramente cambia poco con quella Mercedes, l'anno scorso era fondamentale a fare bene e per bene si intendeva fare dei podi. Cosa che Hamilton ha fatto, certo però che davanti si è trovato un George Russell che ha vinto in Brasile la sua prima gara in carriera appunto in Formula 1, un pilota dal talento cristallino che è finalmente sbocciato. Attenzione perché se Russell continua il percorso di crescita anche quest'anno e la Mercedes riparte dal finale della azione dello scorso anno, attenzione perché il duello Red Bull-Mercedes può essere assolutamente interessante, con l'unica differenza che al posto di Hamilton ci potrebbe essere Russell. Se ovviamente Mercedes-Ferrari fanno una macchina competitiva con questa Red Bull che magari anche per via delle penalizzazioni dovute al budget cap dell'anno scorso infranto magari torna un po' più sulla terra, allora attenzione che ci potrebbe essere della partita altrimenti è un po' più complicato per i primi team dello schieramento perché poi dopo c'è il campionato dei primi sei che appunto sono Ferrari, Red Bull e Mercedes non in quest'ordine ovviamente e poi il campionato degli altri e il problema sarà capire chi sono gli altri perché poi nel centro classifica, nel midfield c'è un sacco di macello perché abbiamo avuto una McLaren altalenante e disastrosa lo scorso anno abbiamo avuto un Alpine altrettanto altalenante e altre squadre che devono in qualche modo riscattarsi. Partiamo non in ordine ovviamente di classifica ma diciamo dalla squadra che tifo sapete che sono un tifoso della McLaren, da sempre l'anno scorso stagione disastrosa per Norris e per Ricciardo alla fine è stata fatta una rivoluzione anche qui sappiamo che questo mercato più che dei piloti di testa è stato il mercato dei piloti del midfield ma è stato anche il mercato dei team principal perché mezza Formula 1 letteralmente ha cambiato vertice la McLaren ha assunto Andrea Stella e ha confermato Lando Norris il pilota su cui assolutamente la Mercedes o meglio la McLaren deve assolutamente puntare perché Norris è un talento cristallino abbiamo visto che è in grado di fare delle buone prestazioni anche con una macchina indecente l'anno scorso più del podio Imola francamente non si poteva fare è vero è stato fatto qualche posizione in top 5 per carità ma da un pilota talentoso come Norris secondo me ci vuole qualcuno che gli dia una macchina come invocava qualcuno riferito a un'altra scuderia vedremo come può fare la McLaren secondo me peggio dell'anno scorso è impossibile fare è probabile che Norris possa dare quel quid in più con una base secondo me più solida la McLaren ha un vantaggio per il futuro ha una coppia assolutamente interessante e potenzialmente devastante perché è vero che c'è Norris ma al fianco di Norris c'è Oscar Piastri che ha un demerito aver rubato il numero che utilizza nella carriera co-op con GTV perché sapete che Mari Stromberg si è tristomititore che usa l'81 e invece Piastri mi ha fregato il numero quindi o cambio numero o cambio alter ego nel 2023 faccio sta che Piastri è un pilota che già l'anno scorso meritava di andare in Formula 1 tornando seri ha fatto la riserva di Alpine sappiamo come Piastri abbia avuto un contenzioso con la casa francese se ne sia andato sbattendo la porta anche per merito della gente di Piastri che ricordiamo è Mark Webber l'ex pilota e firmando il precontratto con McLaren e svincolandosi da Alpine alla fine Piastri è andato nella casa inglese lasciando la scuderia che l'ha cresciuto in famoso braghe di tela o con il cerino in mano Piastri però è un talento molto puro e attenzione perché secondo me la coppia Norris-Piastri ci può fare divertire parliamo di Alpine che invece ha rivoluzionato quantomeno una parte del team perché è stato confermato Estebono Conni il pilota che secondo alcuni è stato favorito l'anno scorso dalle scelte tecniche rispetto a Fernando Alonso ma Alpine ha fatto una scelta diciamo molto patriotica perché coppia francese su macchina francese viene ingaggiato infatti al posto di Alonso Pierre Gasly che è un pilota che a me piace tantissimo che però viene da una stagione disastrosa l'anno scorso in Alfa Tauri che ha veramente fatto una involuzione rispetto a uno o due anni fa Gasly in Alpine secondo me può fare bene spero che possa diventare lui il primo pilota anche perché è più talentoso secondo me di questo Estebono Conni vediamo perché l'Alpine è una macchina indecifrabile se azzecca diciamo la via giusta può magari puntare a tanti punti con costanza top 10 sicuro e magari chissà forse anche qualcosa in più certo con quei big three da davanti come team Mercedes, Red Bull e Ferrari è dura far di più ma vedremo evidentemente quel tanto agognato cambio di regolamento ha mantenuto più o meno invariati i valori dell'anno scorso anzi in alcuni casi i team inferiori hanno forse guardato di più vedremo se con la preparazione per questo 2023 ci sarà un adeguamento anche da quel punto di vista per un'altra squadra invece ufficiale che ha fatto prestazione al tre c'è un'altra che deve assolutamente riscattarsi ed è l'Aston Martin che prende Fernando Alonso dall'Alpine appunto Fernando Alonso se n'è andato sbattendo la porta per l'ennesima volta da Renault Alpine, chiamatela come volete, si è accasata in Aston Martin Fernando Alonso sostituisce Sebastian Vettel che si è ritirato lo scorso anno e ovviamente nonostante abbia 40 e più primavera è l'uomo di punta di questa Aston Martin se c'è un pilota che fa rendere secondo me la vettura molto meglio delle potenzialità concrete è appunto Fernando Alonso che con questa Aston Martin sicuramente può puntare tranquillamente i primi dieci perché il talento Alonso non l'ha mai perso e mai lo perderà certo se la Aston Martin fa una macchina disastrosa come lo scorso anno attenzione perché Alonso riesce di avere una stagione disastrosa non dico ai livelli Mercedes Honda o meglio McLaren Honda però attenzione campanello d'allarme possibile per il 14 non mi aspetto molto invece da Nostrol sappiamo invece che è lì perché è il figlio del primario della scuderia e quindi finché Papastrol non si stufa il canadese sarà a disposizione della Formula 1 non per la mia gioia ma evidentemente per l'Aston Martin sì parliamo invece di un team che deve riscattarsi abbiamo detto Aston Martin sì ma ci abbiamo anche un altro team importante Alfa Tauri che appunto viene una stagione veramente involuta lo scorso anno ha confermato Yuki Tsunoda che farà palesemente il secondo pilota di un invece Nick DeVries che arriva in qualche modo in pompa magna perché il pilota valandese l'anno scorso ce lo ricordiamo tutti è arrivato in Williams lo scorso anno per fare una sola gara al posto di Latifi infortunato pronti via punti a Monza per un pilota che ha vinto la Formula 2 nel 2019 e la Formula 1 nel 2021 non è un fermone Nick DeVries era un pilota praticamente mercato incredibile DeVries era conteso da mezza griglia di Formula 1 alla fine se lo prende Red Bull e lo mette in Alfa Tauri scelta mostruosa e intelligente di Red Bull secondo me perché Nick DeVries è un pilota giovane nonostante abbia fatto anni fuori dalla Formula 1 dopo aver vinto la Formula 2 e se Perez dovesse ritirarsi gli anni a venire attenzione perché hanno un altro olandese forte in casa DeVries è anni che lo osservo è anni che uno sponsorito in Formula 1 sono contento che ci sia speriamo possa far risollevare la sua carriera e anche quella di Alfa Tauri chi invece a sua volta deve riscattarsi o meglio risorgere dalle palpeceni sono gli ultimi tre team di cui andremo a parlare che rispettivamente sono Alfa Romeo, Haas e Williams Alfa Romeo ha il merito di avere la livrea più bella di tutto il Circus la nuova C43 è veramente bellina questa livrea rosso scuro abbinato al nero mi ha fatto veramente impazzire hanno confermato in questo caso tutto il team al completo Valteri Bottas è ovviamente il pilota di punta il finlandese abbiamo già visto come a mente libera anche con un mezzo indecente fa il suo e quando la Haas o meglio l'Alfa era competitiva all'inizio dell'anno scorso ha fatto punti con costanza poi dopo l'Alfa Romeo è peggiorata è stata la peggior macchina del globo terracqueo e quindi ha fatto veramente poco confermato anche Guanyo Zhou che comunque ha fatto quello che poteva fare per essere un pilota pagante non ha fatto secondo me così male la conferma ci può ancora stare è ovvio che Guanyo Zhou ripeto è un pilota pagante quindi è lì più che altro per la valigia più che per il merito sportivo vedremo se potrà fare meglio dell'anno scorso ammesso che il mezzo deve sostenere anche il pilota cinese per quando non sia così talentuoso come altri piloti elencati in questo elenco la Haas conferma che i mag dopo la straordinaria pull position in Brasile con l'azzardo la conferma era praticamente automatica cosa invece che mi lascia perplessa è diciamo la scelta del secondo pilota perché viene ripescato dal freezer Nicola Sulkenberg dopo anni di riserva in Aston Martin viene scelto lui al posto di Mick Schumacher d'accordo che Schumacherino non era un pilota incredibile che era lì un po' per il cognome del papà un po' per meriti perché ha vinto la Formula 2 del 2020 è anche vero però che Schumacher non ha dimostrato chissà che in questa Haas certo l'anno scorso è stato anche trattato un po' malaccio il figlio di Schumacher in favore di Ulfheim perché è un grande veterano non so quanti risultati possa fare questa Haas che anche l'anno scorso ha avuto un stagione un po' sui generi per me di sponsor all'ultimo lo sponsor è arrivato che è Moni Graham vedremo come si comportarà la scuola di Gunther Steiner ovviamente piatta di punta in questo caso è K-Mag la Williams per concludere invece ha una formazione interessante soprattutto dal punto di vista dirigenziale perché è stato preso lo stratega della Mercedes come nuovo team principal la Williams sembrava evidentemente in un marasma incredibile perché la FV45 prima di essere creata insomma ha avuto un po' di problemi la dirigenza Williams ha avuto anche lì il suo bel da farci perché se andò via sia il direttore tecnico sia il presidente alla fine è arrivato lo stratega di Mercedes come nuovo responsabile confermando Alexander Albon italianese di Londra viene da una buona stagione in Williams in quanto l'anno scorso la Williams insieme all'Alfa Romeo e la Haas erano le tre macchine peggiori dell'otto è comunque una conferma meritata per un pilota che può fare della strategia alternativa al suo punto di forza un ingresso invece nuovo ce l'abbiamo ed è quello di Logan Surgent pilota statunitense che dunque torna in Formula 1 in tempo pieno perché Surgent era già collaudatore della Williams ha fatto una stagione dall'anno scorso da rookie in Formula 2 facendo una quarta posizione risultando il miglior rookie della categoria e di conseguenza è stato premiato in quanto opzionato Williams al posto di Nicolas Satifi Surgent è un pilota che a me piace molto in realtà e quindi lo aspetto con ansia non penso che questa stagione possa essere quella spartiacque già per Surgent però è un pilota che può fare meglio del pilota pagante che c'era prima di conseguenza va dato tempo a Surgent di emergere ripeto è cresciuto in Williams attenzione perché la Williams se azzecca la via giusta potrebbe essere forse la sopra di quest'anno la putto lì come ball prediction di oggi vedremo se a metà stagione o a fine anno ci avrò preso ma ovviamente non sarà così perché sapete che i miei pronosti sono tutti evidentemente sminchiati questo in sintesi quello che è successo in Formula 1 tra calendario e piloti presentiamo adesso anche Formula 2 e Formula 3 per una categoria di contorno che assume sempre di più appunto i connotati mondiali a partire dalla Formula 2 la categoria intermedia che presenta 14 gare in calendario a partire da Bahrain per concludersi ovviamente ad Abu Dhabi con 14 eventi due gare evidentemente in programma una sprint race al sabato e una feature race ovviamente alla domenica sappiamo come il format si è cambiato lo scorso anno a differenza evidentemente della Formula 1 che ha 6 gare sprint in corso dell'anno qui invece le gare sprint sono tutte all'ordine del giorno ma perché ci sono meno eventi con una qualificazione fatta il venerdì come appunto in Formula 1 la qualificazione del venerdì fa fede per la gara di domenica mentre per quanto riguarda la sprint race la Formula 2 e la Formula 3 invertono la griglia la Formula 2 per i primi 8 la Formula 3 per i primi 10 è una Formula 2 molto interessante perché dalla Formula 3 sono venuti su tanti piloti giovani e talentuosi per un novero di 12 squadre 24 piloti che andiamo velocemente a presentare in ordine di costruttori dell'anno scorso il team campione in carica è il team olandese MP Motorsport che l'anno scorso ha vinto il campionato con Felipe Drugo che è brasiliano ora in forza alla Ston Martin come pilota di sviluppo il team è molto interessante perché viene preso Dennis Hauger che ha esordito il MP Motorsport in Formula 3 tre anni fa e dunque deve riscattarsi dopo la stagione dello scorso anno in prema il pilota che affianca Hauger è l'indiano Ihan Daruvala esperto di questa categoria pilota veloce non da titolo ma comunque da punti solidi per l'MP Motorsport il team Carlin che di fatto è uno junior team della Red Bull ha una coppia parecchio interessante soprattutto il mio idolo assoluto il barbadiano Zane Maloney che è stato il primo barbadiano di sempre a vincere un campionato in Europa la British Formula 4 per la precisione l'anno scorso in Formula 3 è arrivato a un passo da vincere il titolo che ha vinto Victor Martins anche lui in Formula 2 e adesso opzionato Red Bull il barbadiano va in team Carlin insieme a Enzo Fittipaldi che da Ferrari passa a Red Bull e dunque anche lui va nel junior team Carlin Red Bull quindi attenzione che il team inglese può essere una buona cartina di tornasole dei opzionati Red Bull per questa stagione chi invece non è opzionato Red Bull è invece Theo Purscher confermato in team Art Theo Purscher è probabilmente il candidato numero 1 al titolo è il favorito tecnico di questa Formula 2 e può secondo me fare molto molto bene Purscher peraltro nei test mentre sto registrando ha fatto secondo me una buona prestazione proprio a conferma di quello che sto dicendo una sessione peraltro l'avrebbe addirittura vinta è un opzionato Sauber a differenza di Victor Martins che è opzionato Renault Alpine e dunque come appunto la scuderia madre c'è la coppia francese per team francese Purscher Martins è una coppia di piloti assolutamente da tenere d'occhio dunque occhio al 5 e al 6 Team Prema deve riscattarsi e lo fa con dei piloti comunque di talento e interessanti perché torna Frederick Vesti dopo l'anno in Formula 3 Vesti è uno junior team della Mercedes e va appunto a provare a riscattarsi dopo aver corso in team Art per due stagioni con risultati alterni a fianco a Vesti c'è l'inglese Oliver Berman che è un diretto promosso dalla Formula 3 Berman è un opzionato junior della Ferrari il team Hite che schiera Jack Crawford opzionato della Red Bull anche lui diciamo dalla Formula 3 insieme all'opzionato Red Bull Isaac Ajari il franco algerino che è stato uno dei contenenti al titolo e anche in testa per gran parte della stagione poi ha scemato un attimo per arrivare nelle prime tre posizioni che è un ottimo risultato per il pilota francese il team Dams schiera l'opzionato Red Bull Yumi Wasak che passa da Team Dams appunto che mi viene confermato nella scuderia francese a fianco al fratello di Charles Leclerc Arthur opzionato della Ferrari che dopo due anni in Formula 3 passa in Formula 2 il team Univirtuosi schiera e conferma Jack Duan opzionato Alpine Duan era uno dei papabili insieme a Surgent per andare in Formula 1 ma alla fine c'è scelto secondo me giustamente di farlo tenere in Formula 2 per provare a vincere il titolo quest'anno a fianco a lui c'è il belga Mauri Cordell che dopo il primo anno in team VAR fa un salto in un team comunque molto competitivo Cordell si tradisce Marino Sato che era un pilota pagante di fatto Roy Nissani cambia team e da Dams passa a PHM Racing by Charles PHM Racing è un team nuovo che in modo si tradisce il team cieco è un team che non ha secondo me molte ambizioni probabilmente sarà un'apprendistato per il team tedesco che schiera appunto l'israeliano il pilota americano di origini spagnole Brad Benavides anche lui di stanza in Formula 3 lo scorso anno il team Trident schiera un pilota della Formula 3 ma molto promettente ovvero Roman Stanec che ha vinto la gara a Imola che ho visto dal vivo gara della domenica un pilota molto molto interessante Trident può secondo me riscattarsi perché ha due piloti molto interessanti l'altro è Clement Novalac il pilota francese che torna anche lui in team 3 dopo un anno in Formula 3 proprio con la scuderia di Maurizio Salvadori il team VAR schiera un pilota olandese che è Richard Vescor team VAR ha senza dubbio la livra più bella di Formula 2 e Formula 3 è un team che in Formula 2 ha collezionato delle pole position qui e lì ma non ha mai concretizzato più di tanto Vescor è l'uomo di punta la notizia vera però è chi affianca Richard Vescor ovvero lo statunitense Juan Manuel Correa e sono veramente contento di rivederlo in Formula 2 nella categoria che lo ha visto protagonista di quel tragico incidente che ha visto la morte di Antoine Hubert Correa ha rischiato di perdere gli arti inferiori ha lottato è tornato ha corso l'anno scorso in Formula 3 ha fatto anche un podio l'anno scorso e adesso ritorna in Formula 2 dove tutto cominciò quindi tifferò ovviamente per Correa perché è un pilota che umanamente non può attirare le simpatie e il tifo di noi appassionati vedremo come si potrà competere con il team VAR chiudiamo la carrellata di Formula 2 con gli ultimi due piloti del team Campus che non dovrebbero avere in realtà grosse ambizioni se non forse per Boshung a fianco al pilota svizzero c'è appunto Cush Maney fratello di Arion che ha corso nel DTM Maney arriva direttamente dalla Formula 3 è un pilota di complemento appunto il pilota di punta di campo se è lo svizzero Ralf Boshung probabilmente all'ultima settimana della carriera in Formula 2 per una Formula 2 molto talentuosa e con tanto ricambio c'è un enorme ricambio anche in Formula 3 anche la Formula 3 ha tanti connotati mondiali perché per la prima volta abbiamo due tappe extra europee di solito la Formula 3 correva soltanto tappe nel vecchio continente adesso abbiamo ampliato il calendario si parte così come la Formula 2 in Bahrain e la Formula 1 ovviamente e poi così come la Formula 2 e la Formula 1 si andrà ad Albert Park per poi concludere il campionato a Monza 10-20 nello stesso format della Formula 2 quindi qualificazione al venerdì sprint race al sabato feccio il resto la domenica 30 piloti per 10 squadre che andiamo subito ovviamente a raccontare e a magnificarvi perché anche qui c'è sempre un sacco di ricambio e attenzione perché ci sono tanti opzionati di tante belle squadre top e quindi questi potrebbero essere i campioni del futuro chissà fatto sta che il team da battere probabilmente è ancora prima che si era una formazione di tutto rispetto a partire da Paul Aaron pilota a Estone che è uno junior team della Mercedes a fianco a lui abbiamo Dino Beganovic il pilota svedese di origini bosniache che è un opzionato della Ferrari a fianco a lui c'è Zocco Sullivan pilota opzionato della Williams che passa da Carlin appunto a team Prema un altro team italiano che può dare filo da torcere ovviamente a Prema è Trident che schiera il piacentino Leonardo Fornaroli all'esordio assoluto in questa categoria affiancato da un altro esordiente ovvero Gabriele Bortoleto che ovviamente nega dalla formula Renault quella che era un tempo la formula Renault Formula Regional Championship e poi abbiamo Oliver Goethe che probabilmente è il pilota di punta di Trident Goethe ha fatto due gare l'anno scorso in campo se ha fatto comunque molto bene per essere un esordiente assoluto ovvero punti subito punti via e in posizioni comunque di livello vedremo come si comporta il pilota tedesco di origini danesi il team Art schiera Caelan Frederic che è un pilota della terza stagione in Formula 3 viene dal team Hightech l'ultima stagione viene confermato Greg Warsos il pilota svizzero che anche l'anno scorso era il team Art e poi c'è il debut tassuto di Nicola Zolov il primo bulgaro di sempre in Formula 3 il team Mp Motorsport schiera Franco Colapinto pilota argentino che viene dal team VAR con tanto di due vittorie all'attivo lo scorso anno a fianco a lui abbiamo Mariboyà altro pilota che viene dalla Formula Regional con appunto un esordio assoluto e poi Johnny Edgar che l'anno scorso fece una stagione un po' altalenante un po' per aver saltato per infortunio sindrome di Krohn una parte di campionato è uno junior della Red Bull che deve ovviamente riscattarsi il team Hitex che era il figlio di Montoya quello vero Sebastian dopo una comparsata l'anno scorso in campus il figlio di Juan Pablo fece un po' di assoluto in tempo pieno in Formula 3 a fianco di abbiamo il secondo italiano in gara ed è probabilmente il più competitivo ovvero Gabriele Mini dopo aver vinto la F4 italiana ha arrivato secondo dietro Dino Beganovic evidentemente nella Formula Regional infatti Mini è già un opzionato in questo caso parliamo di team Alpine non c'è il pilota con la carena numero 16 in questo momento c'è Luke Bonnard che è un inglese che è pronto a subentrare vedremo se sarà lui in opzione per quanto riguarda questo sedile il team Van Amersfoort schiera Caio Collec anche lui junior della Alpine con Rafael Villa Gomez messicano la terza sezione in Formula 3 insieme a Thomas Smith l'australiano l'esordio assoluto in questa categoria il team Carlin schiera un altro britannico esordiente Oliver Gray che viene di fatto dal campionato di Formula 4 britannica insieme a Hunter Hini altro americano la terza sezione in Formula 3 insieme all'israeliano Ido Cohen idem con patate il team campus schiera uno spagnolo Pepe Martì che è stato appunto confermato dopo aver fatto buone prestazioni in Formula 4 degli Emirati Arabi e in Spagna Christian Mansell viene confermato dopo aver fatto due gare l'anno scorso l'australiano viene appunto messo in team campus insieme a un altro connazionale ovvero Hugh Barter australiano di origini giapponesi il team Yenzer ingaggia Nikita Bedrin che ha avuto un passato diciamo nella Formula 4 italiana Bedrin va detto è russo ma sappiamo che i russi non corrono con la loro licenza abituale e di conseguenza Bedrin residendo in Italia ha conseguito la licenza in Italia quindi corre con la nostra licenza Taylor Barnard invece è il secondo piato del team Yenzer dell'esordio assoluto mentre conclude il numero dei partecipanti Alex Garcia esordiente assoluto anche lui proviene dalla Euro Formula Open Championship messicano esattamente come Villa Gomez l'ultimo team che entra è ovviamente il team PHM l'abbiamo visto evidentemente anche in Formula 2 in Formula 3 anche qui sarà il team probabilmente meno competitivo ma anche qui un gran bel ritorno quello di Sofia Flurs sappiamo che è stata una pilota coinvolta in un grandioso incidente a Macao nel Gran Premio appunto asiatico si è rimessa anche lei è tornata a correre e sono veramente contento di vederla non mi aspetto in realtà grandi cose dalla Flurs perché non ha al momento la vettura competiva per i punti ma è sempre un piacere di vedere questi grandi ritorni nel motorsport chiudono il nove dei partecipanti due esordienti il brasiliano Roberto Faria e il polacco Piotr Winski credo si pronunci così è comunque anche qui il primo polacco a esordire in questa categoria anche lui viene dalla Formula Regional Open c'è invece dopo qualche comparsata nella Formula 4 Piotr Winski questo è il nuovero delle categorie di Formula 1 Formula 2 e Formula 3 ricordiamo che tutte queste partiranno il 5 di marzo in Bahrain ci aspetta una settimana ricca di appuntamenti sia per quanto riguarda le corse sia per quanto riguarda tutte le altre categorie automoto non fa differenza fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente di questa presentazione e saluto da parte di Matthew Torgard ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao